Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio in A1 in direzione Roma Codet in uscita a Firenze Sud e un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ricordiamo che fino al 18 giugno è chiuso il tratto della panoramica tra la variante di Valico e Aglio per lavori. Sulla Fipilì un chilometro di coda per veicolo fermo tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Sulla statale 1 Aurelia rallentamenti per lavori prima di Carrara in direzione Genova e tra Albinia e Capalbio in direzione Roma. Sulla statale 62 della Cisa senso unico alternato per lavori tra Villa Franca in Lunigiana e Pontremoli. Movistino Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!